Prezzi alle stelle, anche in Abruzzo, la protesta delle pentole vuote. Davanti alla prefettura di Pescara hanno manifestato Adoc, Feder, Consumatori e AdiConsum. Gli associazioni in questione hanno scelto di aderire alla manifestazione indetta a livello nazionale da un vasto cartello di sigle in contemporanea in varie piazze italiane, contro le speculazioni e gli aumenti ingiustificati dei prezzi. E così la pentola vuota diventa il simbolo della difficoltà delle persone e delle famiglie che faticano ormai a soddisfare bisogni essenziali come mettere insieme quotidianamente il pranzo con la cena. Alberto Corraro, presidente AdiConsum a Pescara. La protesta delle pentole vuote, piena soprattutto di scontrini, contro il caro Prezzi in manifestazione in tutta Italia, anche a Pescara sotto la prefettura. Non solo AdiConsum, ma anche altre sigle. Altre sigle è Feder Consumatori e Adoc. Per protestare è un insegno di protesta contro una valanga di aumenti che sta in questo momento travolgendo gli italiani. Partendo dall'olio di semi, più 70%, pasta 16%, questo significa aumenti per le famiglie italiane che oscillano da 500 a 600-700 euro in più. Chiediamo attenzione, aggiunge Corraro, alle istituzioni. Non ci illudiamo, ma chiediamo maggiore interesse per le famiglie che non riescono a sopportare questi aumenti. Tempi aridi, difficili, però dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo manifestare, dobbiamo protestare per richiamare l'attenzione delle famiglie che non possono sopportare questa situazione.